grazie a tutti di esservi collegati con noi C'è una domanda base che voglio fare a tutti tutti collegati adesso sono già praticanti di Qigong? Se non avete praticato prima il Qigong è stato un po' di Qigong nella chat, in modo che ho la visuale Ok, only one Solo uno Per la sola persona principiante presente ma anche qualcuno di più ascoltate, seguite le mie istruzioni e rilassatevi E se rimanete rilassati e seguite le istruzioni del maestro dell'energia che si creerà nel gruppo porterete comunque benefici e risultati dal rilassamento Anche se ci sono delle cose che non comprenderete all'istante semplicemente continuate a seguire rimanendo rilassati Prima organizziamo il campo di Qigong per portare più energia nel nostro gruppo Lentamente chiudete gli occhi Relax the whole body Rilassate l'intero corpo Run head to feet Relax Dalla testa ai piedi Rilassate Run inside to outside Relax Da dentro a fuori Rilassate Visualize all its pure space surrounding us Visualizzate Visualizzate che tutto è puro spazio che ci circonda The pure space surrounding us and also inside our body Il puro spazio ci circonda ed è anche dentro nel nostro corpo Relax our breathing Rilassate il respiro The head top Bai hui open La cima della testa Il bahuè si apre Pure chi Flowing inside Bai hui All the time Il puro chi affluisce attraverso il bahuè continuamente Il puro chi affluisce attraverso il bahuè continuamente We in close up Kyo in chiuso verso l'alto Visualize Visualize body inside Visualizzate il corpo da dentro All is pure space inside Tutto è puro spazio dentro Relax our head Relax our head Rilassate la testa Then neck relax Il collo si rilassa Slowly move our neck Lentamente muovete il collo Relax our chest Rilassate il petto Up the back Relax La parte superiore della schiena si rilassa Lower back Relax La parte bassa della schiena si rilassa Slowly move our lower back Lentamente muovete la parte bassa della schiena Relax with chi Rilassatevi con il chi Relax our abdomen Rilassate l'addome Relax the hips Relax Rilassatele anche The spine knees relax Le cosce e le ginocchia si rilassano There are small legs Ankles relax I polpacci e le caviglie si rilassano The feet, toes all relax I piedi e le dita dei piedi si rilassano Tutto si rilassa The shoulders, hands, elbows all relax Le spalle, i gomiti, le braccia Tutto si rilassa I polsi, le mani e le dita si rilassano Leading front by way Slowly move our chi body forward and backward Guidando dal bachui Lentamente muovete il nostro corpo di chi Lentamente in avanti e indietro Slowly and evenly Lentamente e in modo uniforme Percepite che siamo un corpo di chi Follow pure chi inside Tutto segue ed è puro chi dentro Chi flowing free inside Il chi fluisce libero dentro Sense clearly inside Percepite tutto chiaramente dentro Lentamente e in modo uniforme Lentamente e in modo uniforme Lentamente fermate questo piccolo movimento Rafforzate il qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi interno e il flusso del qi. Rafforzate il qi. La seconda parte riguarda la ricerca del qi gong nell'università da cui viene il maestro. E il nome della sua università è l'università di Jiangxi di medicina cinese. E il dottor Pang è tra i professori di questa università. Il terzo tema è perché il qi segue la nostra mente. Il primo tema è che qualcuno di voi conosce questo portale PubMed. Il pubMed è a livello internazionale il database più riconosciuto e di più alta autorità sulla letteratura che riguarda gli aspetti di biomedicina. E ha più di 300 ricerche e pubblicazioni che riguardano il qi gong che sono state pubblicate nei ultimi dieci anni e la maggior parte di loro è sui problemi di livello fisico e di livello mentale come problemi di salute che sono stati risolti con il qi gong. E quando su questo portale noi usiamo la parola qi gong possiamo trovare tutti questi materiali su quel portale. E anche sul The Lancet che è il giornale medico di più alto rango a livello internazionale ha pubblicato tre articoli sul qi gong tra il 2016 e il 2017. In Cina anche noi abbiamo un database che è l'infrastruttura nazionale di sapere, di conoscenza dall'inglese poi l'abbreviazione CNKI. E se noi su questo portale usiamo la parola chiave qi gong troviamo 16.731 pubblicazioni che riguardano il qi gong che sono state pubblicate nei ultimi dieci anni tra il 2014 e il 2023. E alcune di queste ricerche sono state addirittura cofinanziate e quindi sostenute da fondi parlamentari. E la maggior parte di queste pubblicazioni riguarda proprio il sostegno del qi gong nei processi di guarigione di diverse malattie a livello fisico. Come ben sapete in Cina ci sono diversi stili di qi gong così come ci sono tantissime malattie. E questo permette che ci sia così tanta diversificazione e così tante diverse pubblicazioni su questo tema. Adesso vi racconto un po' invece della ricerca sul qi gong che avviene nella mia università. Questa ricerca è stata fatta in collaborazione con l'università di Wales. Adesso il nome non lo ripeto. È un'università inglese. Ecco, Wales, Trinity, St. David. Questa è l'università. Yeah. Questa ricerca è stata fatta nei tempi dell'epidemia del coronavirus. Il qi gong che abbiamo esaminato in questa ricerca è una forma che rafforza i polmoni. E questa forma di qi gong è stata creata attraverso l'abbinamento del zineng qi gong e alcune basi della medicina tradizionale cinese. Ed è stato creato dal tutor di Master Zhu che è il professor Zhang. Professor Zhang Wencheng. Questo è il suo supervisore, il suo nome. E i risultati sono stati molto buoni. E i partecipanti non solo hanno ottenuto dei miglioramenti a livello fisico ma anche a livello mentale. E i risultati sono stati presentati ad una convention di medicina. E abbiamo anche fatto delle ricerche con gli infrarossi. Allora potete vedere con la fotocamera infrarossi nella seconda fine quindi le foto centrali. La foto a sinistra presenta la foto di un corpo dove è stata eseguita la forma senza concentrazione. mentale sui meridiani. And the right side picture is with our mind focused on the meridian. Invece a destra c'è la foto con la mente che si concentra sui meridiani. So on the left without the concentration and on the right with the concentration, right? Yes. And you can see the red means there is more energy, more heat inside with the concentration, with the focus. Con il rosso vedete che con la concentrazione mentale sui meridiani c'è più energia, c'è più calore. Anche nella parte più bassa di questa foto abbiamo due foto. La foto a sinistra rappresenta il corpo prima della pratica di Qigong, la foto a destra rappresenta il corpo dopo la pratica di Qigong. E anche qui potete osservare che c'è molto più rosso e quindi calore e energia sulla foto a destra. Hanno anche usato dei macchinari terahertz per andare proprio alla ricerca del Qigong. Sì, il terahertz è una speciale frequenza di onde. Tante ricerche oggi quelle serie prendono in considerazione il terahertz. Il macchinario in sé è molto costoso. Siamo riusciti ad acquistarlo e importarlo dalla Germania. I risultati dimostrano che il Qigong ha le caratteristiche di terahertz. E siamo anche riusciti a trovare che il Qigong di un maestro di Qigong è diverso dal Qigong di persone normali. Quindi quando il maestro Qigong mandava il Qigong dal Qigong, quello che la macchina registrava era diverso da quello che veniva emesso dalle mani di una persona qualunque. Abbiamo anche fatto la ricerca con la tecnica delle onde celebrali. E abbiamo trovato che le onde alfa di una persona praticante Qigong sono di qualità migliore, sono diverse e sono migliori. Queste ricerche sono tutte pubblicate nei giornali cinesi. Nei ultimi anni il nostro gruppo di ricerca ha pubblicato 47 articoli che riguardano il Qigong in diversi giornali. La nostra università è il leader nella ricerca sul Qigong. E il professor Zhang Wenchun è il caporedattore di diversi libri e pubblicazioni sul Qigong che vengono... ... 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 Come riguarda la medicina tradizionale cinese, gli esercizi, the calculation, did you say, master? Yeah, means to cultivate, means to nourish, nourish. Quindi come calcolare i livelli di saturazione e di nutrimento. E questo libro descrive, include, tantissimi diversi metodi di Qigong, incluso anche il Zineng Qigong. Questa foto invece è il Dr. Pang che tiene una lezione nella nostra università. It was in 2018. Questo è del 2018. In our university, most of our Qigong research combine Zineng Qigong with TCM. Nella nostra università, la maggior parte di insegnamenti abbina il Zineng Qigong alla medicina tradizionale cinese. La parte 3 è perché il Qigong segue la mente. Nella nostra teoria, la mente è una forma speciale di Qigong. Ma la mente ha iniziativa. Ma la mente ha iniziativa. Both the mind and Qigong belong to the third level of matter that manifests as information. Entrambi, la mente e il Qigong appartengono al terzo livello di materia che manifesta l'informazione. Most people say Qigong is energy, but fundamentally it is information. La maggior parte delle persone dice che il Qigong è energia, di base fondamentalmente il Qigong è informazione. And our mind is also the form of information. E anche la nostra mente è una forma di informazione. So, mind influences Qigong, actually it is one kind of information influence another kind of information. Quindi quando parliamo della mente che influenza il Qigong, parliamo di un tipo di informazione che ha un'influenza sull'altra informazione. And for the slides we watch here, now I will continue to share more about the why Qigong follows mind. Adesso continuerò a condividere maggiori informazioni sul perché il Qigong segue la mente. Ok, thus now we share a lot of information about the scientific properties of Qigong. Fino adesso abbiamo condiviso tantissime informazioni sulle proprietà scientifiche del Qigong. E abbiamo anche condiviso informazioni sugli esperimenti di come il Qigong influenza il nostro corpo. Sì, and in a group maybe some of you are working in the research institute or university. We can have the idea to cooperate, to further our research. Se magari oggi tra chi ascolta ci sono persone che lavorano in strutture che si occupano di ricerca, possiamo anche esplorare possibilità di collaborazione per sviluppare ulteriormente questo campo di ricerca. E per quanto riguarda il terzo livello di materia, mente e Qigong, maggiormente noi dobbiamo usare il nostro stato meditativo per percepire il Qigong fuori e percepire il Qigong dentro. E dobbiamo anche sviluppare, fare diverse prove, ricerche su questi effetti, come abbiamo fatto recentemente sul Qigong e il miglioramento del sonno. Abbiamo concluso delle sessioni di ricerca con due università inglesi e in tutte e due ci sono stati positivi miglioramenti della maggior parte delle persone sul sonno. e anche come ho avuto l'esperienza nel centro del Qigong, il centro del Qigong, il centro del Qigong, il centro del Qigong, 30 o 40 anni fa, più di 100 tipi di risorse che hanno effettuato il effetto di Qigong. Così come nel centro Hoaxia, già 30 o 40 anni fa, abbiamo sempre avuto dei risultati positivi di miglioramento e di guarigione su più di 100 malattie. E' anche importante continuamente ripetere queste ricerche, e farle sempre più formalizzate in modo che si avvicinino a quello che il mondo scientifico, diciamo, riconosce come scientifico per portare avanti il messaggio dell'efficacia del Qigong. For example, the cancer-related symptoms, diabetes, hypertension and other problems. Malattie come malattie tumorali, diabete, pressione alta e tanti altri tipi di malattie. Adesso ci rimane ancora un po' di tempo e quindi vi guiderò io, per portarvi in uno stato a percepire come la nostra mente interagisce con il Qigong. Ok, now we slowly close eyes. Lentamente chiudiamo gli occhi. Our hands, two hands, hold a qibu in front of abdomen. Le nostre mani davanti all'addome tengono una sfera di C, quindi le mani si affacciano. Relax the shoulders. Rilassate le spalle. Relax the arms and elbows. Rilassate le braccia e i gomiti. Relax the hands and fingers. Relax the 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 fingers. La nostra mente deve focalizzarsi sul rilassamento completo. Now firstly, to experience our mind, influence the qi in nature, qi in the space. Allora, per primo la nostra mente si focalizza sull'influenza del qi nel mondo naturale. Slowly open, kai. Lentamente aprite le mani, kai. Close her sense qi, energy between hands. Chiudete, kai. Percepite il qi, l'energia, tra le mani. Open kai. Sense the space slanting us. Aprite kai. Percepite lo spazio che vi circonda. There is much qi in our space. C'è tantissimo qi nel nostro spazio. Close her slowly and evenly. Chiudete her lentamente e in modo uniforme. Open kai. Aprite kai. Close her sense qi between hands. Chiudete her. Percepite il qi tra le vostre mani. Open kai. Sense qi in our space. Aprite kai. Percepite il qi nel nostro spazio. Seguite il maestro. Om. Om. A. Om. Om. Aum Kai Kai Aum Kai Aum Kai Aum Kai Aum Aum Kai Aum Kai Aum 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 Now slowly move the keyboard to the front of face. Lentamente spostate la sfera di C in fronte al viso. Turn past facing face. Girate i palmi che guardano il viso. Relax shoulders. Rilassate le spalle. Says Chi go inside yin tang between two eyes. Percepite il Chi che penetra dentro l'intang tra le due sopracciglia. Look inside yin tang. Guardate dentro all'intang. Now slowly moving hands down with Chi. Lentamente spostate le mani in giù con il Chi. Sense the Chi flowing inside her face. Percepite il Chi che fluisce all'interno della testa e nel viso. Now continuously from the forehead passing down to the chin. Continuate a fare il su e giù dalla fronte al mento e poi in su alla fronte. Ripetete il Chi che fluisce. Sense the Chi go inside the eyes. Percepite il Chi che penetra gli occhi. Chi go inside the face. Il Chi entra all'interno del viso. Our face with more Chi getting more beautiful, more shining. Il nostro viso con più Chi diventa più bello, più luminoso. Con un piccolo sorriso in viso. Con un piccolo sorriso in viso. Sense Chi flowing free inside the face. Percepite il Chi che fluisce libero all'interno del viso. Now moving Chi down to the slope. Spostate il Chi giù alla gola. Down to chest, lungs and heart. Giù verso il petto, ai polmoni e al cuore. Relax the shoulders. Massage Chi inside the chest. Rilassate le spalle e massaggiate il Chi all'interno del petto. Our hands with the Chi rotating in front of chest. Le nostre mani sono il Chi che ruota all'interno del petto. Sense our heart open, our mind open. Percepite il cuore che si apre, la mente che si apre. Out of relax. Rilassatevi completamente. Playing Chi, playing with the Chi inside the chest. Portate il Chi dentro nel petto. Giocate con il Chi nel petto. Our lungs function getting well. Le funzioni dei nostri polmoni migliorano. Sense pure Chi flowing inside the lungs. Percepite il puro Chi che fluisce nei polmoni. Continuously rotating inside. Continuamente ruota dentro. We can sense Chi clearly inside the chest. Potete percepire il Chi chiaramente all'interno del petto. Our heart relaxes. Il nostro cuore si rilassa. Pure Chi inside the heart. Il puro Chi all'interno del cuore. We are happy and peaceful. Siamo felici e pacifici. Now slowly moving Chi down to abdomen. Lentamente spostiamo il Chi all'addome. Never deep inside our lower dantien. Attraverso l'ombellico nel profondo dell'interno del nostro dantien inferiore. We hold the Chi ball in front of our lower dantien. Teniamo la sfera di Chi di fronte al dantien inferiore. Now we strengthen the Chi of lower dantien. Rafforziamo il Chi del dantien inferiore. Open Chi. �� Aprii. Cari. Close, he, into lo dantien. Chiudete. He, dentro nel dantien inferiore. Cari. Apriti. itative. Over. A 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 E' puro, chiaro, trasparente. Chi rotating inside the place. Il Chi ruota dentro in quel spazio. It's getting comfortable, relaxing. E' percepite una sensazione confortevole e rilassata. Puro spazio all'interno di quella zona. Adesso percepite il mio canto in quel spazio. Il canto con il Chi di guarigione dentro. Puro spazio. Puro spazio. Puro spazio. Puro spazio. La zona diventa luminosa e piena di luce dentro. Adesso rilassate entrambi le mani e portate tutto il qi dentro nell'ombelico. Nutrite il qi nel dantiene inferiore. Il qi in tutto il vostro corpo è abbondante. Il qi e il sangue scorrono liberamente. Tutte le funzioni sono buone. Siamo comodi e siamo sani. Mantenete il buon stato, lentamente separate le mani e aprite gli occhi dolcemente. Ok, just now who can use your mind to direct qi? Allora, chi di voi è riuscito a usare la vostra mente per dirigere il qi? Scrivete uno nella chat per dire sì. Grazie. 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 alla chat. Le vostre sensazioni. Al maestro Peter Masterzu che ci ha gentilmente fatto questa benissima sessione. vediamo. Ok, allora ti apro il microfono un attimo. Maurizio? Eccoci qua. Sì, allora quello che ho sentito è che una sensazione di calore avvolgente in tutto il corpo sia interno che esterno e poi come se ha sentito una forte espansione. bene. So, he felt a sensation of heat spreading and surrounding all the body from inside and from outside and also a sense of expansion. molto bene. E l'altra cosa è che sento è come se il sangue fosse frizzante, così si può dire. Ok, sì. And then he had a perception as if the blood becomes sparkling, you know, like frizzy, vibrating. I see. Yeah. Sometimes when the Qi is working faster, flowing better, the blood will be also. So, this is normal. Succede che quando migliora e accelera il flusso del Qi, anche il sangue lo segue e quindi la sensazione poi è questa. è un'altra cosa. Allora, poi puoi anche dire che c'è una studente da Messico che scrive incredibile, c'è pace e tranquillità dentro di me. Grazie. Then there is one student from Messico, who was saying thank you for the beautiful session and that she felt an incredible sense of peace and tranquillity. And it's a kind of very, very good feeling. Ok, thank you for sharing. I think the last one, Maria, have the hands up. Chi è ancora? Maria Grazia, vuoi dire qualcosa anche tu o c'è ancora qualcuno? Allora, c'è Caterina che scrive, io invece ho sentito improvviso formicolia alla mano sinistra, in particolare al pollice. So, there is one person who felt a strong tickling sensation in the tingling sensation in the left arm, especially in the thumb, so the big finger of the hand. Okay, very good. E poi dice che gli è sparito il dolore che aveva all'arto. And the pain that she had in this arm, before the session now is gone. Yeah, very good. It can be. Yeah, sometimes the healing can be very fast. A volte l'effetto di guarigione è molto veloce. Poi c'è un'altra studente che scrive, a me friggono i piedi e forte rilassamento che andrei volentieri a dormire adesso. Ok. Then there is another student who says that his feet have become very, very hot, almost like a frying sensation. And then he's so relaxed that he would go to sleep now immediately. Yeah, sure. That's very good. That means you receive a lot of Qi into your body. Poi c'è uno studente che mi chiede se il Qi ha una sua intelligenza o è solo informazione. There is one student who's asking whether the Qi has its own intelligence or its own information in the sense that it always has to be directed by the intention. Ok. That's a good question. And normally... Yeah. Yeah. Go on, Master. And the Qi, yes, is also intelligent. But if we want to Qi to show the intelligence, then we need to empty our mind. Totally empty our mind. So, this is a very good question. The Qi, yes, is intelligent. But to access the intelligence of the Qi, we need to develop the ability to completely to empty our mind. Because when we empty our mind, then the Qi will flowing by itself and going through the place you want healing or you want better by itself. But for most people it's not easy to empty our mind. So we need to use our mind, use concentrate, focus and a relaxing mind to direct, direct the Qi. And we need to send the information from our mind to say Qi flowing free, Qi abandoned and Qi going to the place where we want. And then we need to flow with our mind. And we need to flow with our mind. And we need to flow with our mind. Okay. Grazie. Volevo condividere la mia sensazione. Altre volte ho fatto degli esercizi con il Qi. Ma questa volta il Qi mi è apparso molto più corposo e molto più abbondante. Come una sciarpa di seta finissima che entrava nel corpo. Maria Elena is a doctor, Master Zhu. She is a doctor. Okay. So Maria Elena is saying that she has had in her previous practices the perception of Qi, but never as thick and dense and abundant as today. And so she had the feeling like a thick scarf that was going through her body. Yeah, very good. It's a very good Qi feeling. Molto bene. Questa è una percezione molto buona. Scusa, Francesco che ha scritto ho avuto dei momenti di inconsapevolezza. mi sono ripreso ed ho diretto il Qi verso il cavo popliteo sinistro dove ha dei problemi. Calore e bella sensazione è quello che ha avvertito e il ginocchio sinistro ora ha più energia del destro. So, during the practice, this person had moments of like sensation of losing consciousness, but he was always returning to be conscious. and he drive the Qi to his left knee and left calf, where he has problems. And now he has the feeling of heat and a nice comfortable feeling. and basically it's like the left knee, which was the weaker one, now has more energy than the right one. Very good. It means you are very good with the mind directing Qi. and the Qi follows your mind and you have the good state to influence, influence your physical body, influence your knees. When it's heat, it means it's a change, it's changing good. Allora, tutto questo significa che hai una padronanza buona di dirigere il Qi nel tuo corpo e se a fronte di questo si sviluppa poi il calore, significa che sta avvenendo un cambiamento in meglio. Ok. 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 Thank you very much for this beautiful session. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you Maria and Eva. And if you wanted to share in, you can also send a message to Maria and she will pass to me. Ok? Ok. And when reading the information, your feedback, I will also send a good Qi to you when reading your message. Okay, thank you everyone, happy to be with you. Thank you very much. Grazie a tutti, sono stata felice di essere con voi. Grazie Master per tutte le informazioni preciose. E buona notte per voi. Grazie, grazie molto. Grazie. Grazie, bye bye. Bye bye. Bene, grazie a tutti, grazie a Marta e a Zou per questa bellissima sessione e buona serata a tutti, grazie Eva e ci vediamo. Ok? Grazie a tutti.